Torna a Napoli Ernest Pignone Ernest, artista francese che espone nel complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio a Napoli un'installazione dedicata ad otto grandi mistiche cristiane, una riflessione sul rapporto tra interiorità ed esteriorità tra anime e corpo. In dialogo da quasi 20 anni con le figure delle mistiche, Ernest Pignone Ernest ha voluto portare questo lavoro anche a Napoli, città che lo ha aspirato nella prima lettura degli scritti delle sante. Maria Maddalena, il De Arda di Bingen, Angela da Foligno, Caterina da Siena, Teresa d'Avilia, Maria dell'Incarnazione, Louis de Noé e Madame Gouillon. Il rapporto di Ernest Pignone Ernest con Napoli risale al 1988 dove soggiornò lasciando segni indelebili del suo passaggio nel centro antico e diventando così uno dei protagonisti della cultura cittadina tra gli anni 80 e 90. Nel suggestivo epoggio del complesso del Purgatorio ad Arco si dispiegano tra oscurità e luce otto disegni autoportanti di grande formato a grandizia naturale. che raffigurano le mistiche. Le opere sono collocate su una superficie d'acqua che riflette i disegni insieme allo spazio circostante. Ho lavorato molti anni a Napoli anche negli anni 80 dove ha messo i suoi disegni sui poster sui muri della città e per capire la sua propria natura di Mediterraneo si è interessato alla cultura religiosa cristiana e quindi ha letto non solo i Vangeli ma anche questi testi dei grandi mistici. La vita è così che ho scoperto questo testo. L'agoratrice del complesso museale Francesca Mirante. Ernest Pignone Ernest ha realizzato alcune delle sue opere nell'88 sulla facciata della chiesa quando certo la sorte della chiesa non era quella di adesso, c'era quella di essere questo luogo conosciuto da molti ma frequentato solo da chi effettivamente poteva accedere a coloro che erano praticamente i fedeli. Quindi era un posto pieno di suggestioni. Adesso il Purgatorio ad Arco cerca di essere ancora un posto pieno di suggestioni però è un luogo che si apre ad una serie di possibilità espressive sempre in una logica di valorizzazione reciproca.